Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. E' stato bloccato e arrestato dai carabinieri nel corso della giornata di oggi nel Mantovano, l'uomo di 38 anni che ieri sera dopo aver accoltellato la sua convivente ad Altavilla Vicentina era fuggito in automobile portando con sé la bambina di 6 anni. I carabinieri di Vicenza lo hanno bloccato a Bagnolo San Vito vicino a Mantova in seguito a un incidente stradale. Lo hanno identificato e riconosciuto. La bambina che aveva la febbre è in buone condizioni ed è stata portata per precauzione all'ospedale. L'uomo Raffaele Busiello di origine campane verrà trasferito a Vicenza. Una donna è stata salvata dalle fiamme della sua casa. Parliamo di un incendio scoppiato oggi in un appartamento di Favaro a Mestre. Una donna è stata salvata dai vicini di casa mentre il suo appartamento veniva divorato dalle fiamme. È successo in terraferma veneziana Mestre in località Favaro. L'incendio è scoppiato verso le 11.30 per cause ancora sconosciute. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Mestre con tre mezzi, tra cui l'autoscala e nove operatori. Hanno spento l'incendio sviluppatosi al primo piano dell'abitazione con fiamme che uscivano dalle finestre. Sono riusciti ad evitare l'estensione a tutta la casa. La donna è stata visitata da personale del suo M118 e portata in ospedale per aver inalato troppo fumo. Le cause del rogo di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Ci sarà un funerale unico domani per l'addio ad Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due giovani vicentini di 21 anni legati sentimentalmente da più di un anno, morti martedì scorso per le esalazioni da monossido di carbonio avvenute in una villetta in provincia di Verona. Per volere dei familiari il rito funebre si terrà a Darzignano, in provincia di Vicenza, nella chiesa di San Giovanni Battista. Le due parrocchie di provenienza dei ragazzi sarebbero state troppo piccole per ospitare la cerimonia. Su questa decisione non è arrivata nessuna opposizione da parte dei due parroci che celebreranno assieme il rito funebre. Nell'incidente avvenuto in una casa a vacanza si erano salvate dal monossido due amiche delle vittime che stavano dormendo in un'altra stanza e proprio le ragazze hanno dato l'allarme. Purtroppo però non c'era già più nulla da fare. La maggior parte dei furti in casa, pensate, avviene nel tardo pomeriggio, precisamente tra le 17 e le 18 e 30. Parliamo del 70% dei furti che avvengono in una sola giornata. Oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova ha divulgato alcuni consigli per contrastare i furti nelle abitazioni e ha così dato alcuni consigli per i cittadini su come difendersi. Sentiamo. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova ha divulgato alcuni consigli per contrastare i furti nelle abitazioni. Oltre all'attività repressiva esercitata dagli uomini dell'arma quotidianamente, è fondamentale il contributo di ogni cittadino con comportamenti che possono mettere al sicuro le proprie case. Piccoli consigli che possono trasformarsi in deterrente nei confronti dei malintenzionati. Eccone alcuni. Non aprire il portone o il cancello a sconosciuti. Dotarsi di antifurto e casseforti, ma non divulgare a nessuno informazioni sulla tipologia di prodotto e dove viene installato. Dotarsi di strumenti di sicurezza come spioncini, videocitofono, porte blindate e telecamere di sicurezza. Se possibile, per chi abita ai piani bassi, dotare le finestre di grate metalliche. Non lasciare mai le chiavi sotto i tappeti e far apparire l'abitazione come se all'interno ci fosse sempre qualcuno. Non lasciare indirizzi attaccati al portachiavi. I carabinieri hanno sottolineato anche l'importanza del corretto utilizzo degli strumenti social. Se siete lontano da casa, evitate di dare indicazioni attraverso Facebook o Instagram su dove siete e quanto state via. E non postate foto dell'interno della vostra casa, che potrebbero far gola a topi d'appartamento. Attenzione a dove nascondete le cose. I ladri rivolgono la loro attenzione a cassetti, armadi, tappeti, quadri, letti, vestiti e interno dei vasi. Esiste anche un orario nel quale avvengono il 70% dei furti in casa. E precisamente va dalle 17 alle 18 e 30. Ci sono le forze di polizia, c'è l'arma che è presente sul territorio con 50 comandi e con orari che sono a disposizione 24 ore su 24. La cosa più importante è che ognuno segnali preventivamente facce sospette, gente che si aggira, individuazione di quelle che possono essere poi delle persone che noi chiaramente sappiamo valutare, astenersi dal fare qualsiasi altra, diciamo, prendere iniziative, ma sicuramente inserirsi in quelli che sono i circuiti della denuncia e anche quelli che realmente la prefettura stessa qui a Padova ha stabilito per alcuni comuni, che sono i grandi contratti di collaborazione con i carabinieri, con le forze di polizia, per poter segnalare quella che poi è l'esigenza e l'emergenza. Tra i consigli di Ramati c'è quello di dotarsi di sistemi d'antifurto. Oggi in commercio ce ne sono di varie tipologie e adatti ad ogni esigenza, tra le possibilità, anche quella gratuita, di collegare l'apparato al 112. Collegare l'allarme alle nostre centrali operative è gratuito, cioè è un'operazione che viene fatta gratuitamente e viene fatta con una serie di piccole firme e attività che può essere veramente limitato a ore e avere subito questo collegamento con le nostre centrali operative che sono, disse poi, ben organizzate sul territorio e che determinano poi l'intervento immediato. Fondamentale la collaborazione con le forze dell'ordine. In caso di necessità, il cittadino non deve tentare di intervenire da solo, ma deve comporre il 112. Divulgate anche le foto di alcuni uomini che sono stati recentemente arrestati per aver compiuto vari furti nelle abitazioni. Non viene escluso che una volta rimessi in libertà possano tornare a delinquere e per la sicurezza di ognuno di noi viene consigliato di memorizzare i loro volti. Una donna è la prima italiana, è una donna veneta, alla quale è stata impiantata una mano bionica che percepisce il contatto con gli oggetti. è stata realizzata dal gruppo di Silvestro Micera della Scuola Superiore Sant'Anna e del Politecnico di Losanna. L'intervento è stato eseguito a giugno 2016 nel Policlinico Gemelli di Roma dal gruppo del neurologo Paolo Maria Rossini. I risultati della sperimentazione sono in via di pubblicazione su una rivista scientifica internazionale. Nell'esperimento, durato sei mesi, la mano bionica è stata impiantata su una donna del nostro territorio, Almerina Mascarello, che vive in Veneto e che aveva perso la mano sinistra in un incidente. La mano è una versione migliorata di quella impiantata su un uomo danese nel 2014. Purtroppo dobbiamo parlare di un altro incendio avvenuto sempre in terraferma veneziana, questa volta a Marghera. Fortunatamente fiamme che sono scoppiate in un edificio in disuso. Un edificio però che era diventato un ricovero per senza tetto. Sentiamo cosa è successo. All'ora di pranzo il fuoco è divampato all'interno di una struttura in disuso in via Fratelli Bandiera a Mestre. Nell'edificio trovavano ricovero numerosi senza tetto che si intrufolavano abusivamente per trovare un ricovero per la notte. All'arrivo dei soccorsi non c'erano persone all'interno, ma sono stati individuati già ciglie e trovate alcune bombole GPL. I vigili del fuoco hanno lavorato con sei automezzi e diciotto uomini. Hanno prontamente circoscritto il rogo sviluppatosi nella parte alta del magazzino che ha bruciato materassi e materiale accatastato. Sul posto ha lavorato anche la polizia di Stato. E adesso la città lagunare in primo piano perché il sindaco di Venezia ha intervenuto parlando della tassa di soggiorno per i turisti che dice dovrebbe essere utilizzata anche da chi affitta le abitazioni attraverso il web o altri sistemi. Un registro che serve per stanare i furbetti delle case in affitto. Inoltre, quindi una serie di proposte che vogliamo riassumere nel servizio. Il sindaco di Venezia ha chiesto al Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo l'introduzione dell'obbligo per i proprietari delle case affittate con fini turistici e per i portali online di iscriversi in un apposito registro. Per il primo cittadino anche gli alloggi affittati da privati per finalità turistiche devono essere assimilati alle strutture ricettive, quindi con l'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno. È diritto di ogni cittadino e quindi di ogni amministrazione conoscere tutti i dati di chi ogni notte soggiorna nel proprio territorio. Luigi Brugnaro ha fatto anche chiaro riferimento al portale web AirBnB e spiega che grazie alla tassa di soggiorno il Comune ha potuto introdurre una norma per abbassare l'Atari ai residenti. Ed ora parliamo di clima. Fino a sabato mattina si afferma un promontorio anticiclonico con un discreto flusso di quota in quota, dapprima dai quadranti occidentali poi su quelli sud-occidentali. In seguito si affermerà una depressione sull'Europa sud-occidentale che specie da domenica sera chiamerà correnti meridionali umide portando molte nuvole e delle precipitazioni anche sul Veneto con un clima più umido e soprattutto a quote medio-basse e nelle ore notturne. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani. Grazie a tutti i nostri spettatori.